ragazze ciao a tutte allora in questo video vi voglio parlare del soft touch il nuovo sigillante uscito questo mese a passione unghie allora è un sigillante matt e vi faccio vedere anche questo colore qua che l'ultra o vaio letto violet insomma il c 112 eccolo qua che è un nuovo colore uscito di passione questo mese che a quanto pare sembrava di moda in questa primavera quindi allora il colore lucidato è lui molto 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 bello non mi faccio vedere nessun tipo di differenza perché non ha uguali per quanto mi riguarda su passione unghie su altri colori che ho di altre ditte quindi non vi mostrerò nessun altro tipo di colore questo è quello lucido forse così si vede meglio o sì forse sì e questo è in versione matta allora perché vedete tre trip si tre tip matt mi sono incartata allora perché su ogni tip ci sono tre sigillanti matt diversi allora il primo che vedete questo qua è il soft touch ecco forse così si vede meglio è questo allora c'è la mia bimba che chiacchiera quindi dicevo questo che il soft touch mentre questo qua è il vecchio sigillante matt sempre di passione unghie e il terzo è il mat ever della crystal nails quindi visto che ho questi qui tre sono gli unici matt che ho quindi vi voglio far vedere la differenza allora come vedete la differenza tra il soft touch e il matt vecchia data di passione come vedete il matt lascia una patina sempre lucida mentre il soft touch è completamente opaco veramente completamente completamente opaco direi identico a quello della cristal nails l'unica differenza tra i due cristal nils e passione è che cristal nils non ha strato di dispersione mentre passione unghie si va 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 sgrassato ve lo faccio vedere più da vicino forse se faccio ok eccolo qua allora anche la consistenza è diversa tra il nuovo matt e il vecchio allora questo qua è abbastanza liquido come vedete però nello stenderlo è molto semplice cioè non è che va a colare scusate va steso un po abbondante come tutti i gel con lo strato di dispersione cioè il giusto va steso abbondante il giusto mentre vi faccio vedere la consistenza del vecchio gel che è leggermente più denso rispetto a questo nuovo io francamente non lo volevo nemmeno prendere questo soft touch perché insomma tanto opaco poi mi trovo bene anche a farlo con la polvere acrilica quindi però per quanto riguarda magari farci poi sopra le decorazioni è molto utile anche con questo tranquillamente anche se sia stato dispersivo lo andate a sgrassare bene e poi ci potete fare tranquillamente sopra le vostre decorazioni quindi questo è più veloce nel senso che non è stato dispersivo comunque anche questo qui della crystal nails va steso abbondante non va steso tirato perché sennò vi lascia tutte le striature quindi quindi insomma non lo volevo prendere fatto sta l'ho preso e francamente mi piace molto 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 vi voglio far vedere innanzitutto la stesura di questo nuovo colore che è un cino non fa parte della linea fast però si stende si stende benissimo allora non so il vostro ma il mio all'interno ha dei piccoli granellini neri e non so cosa sono però non so se qui in video si vedranno però ha dei piccoli granellini neri che francamente nella stesura mi urtano il sistema nervoso non so se è un discorso del mio vedete eccolo qua cioè se è il mio che è difettoso o se ve lo fa anche al vostro fatemi sapere per curiosità mi è arrivato oggi e la stesura è ottima cioè nessun problema però francamente a me il fatto che abbia questi pallini neri all'interno mi urta un po il sistema nervoso vado a polimerizzare vado a dare la seconda stesura con la seconda stesura è tranquillamente coprente si stende cioè benissimo cioè ci sta andando anche parecchio iozza quindi non da veramente problemi e torniamo a lampada ok data la seconda mano la volevo fare vedere se si riusciva a vedere vedete che ci sono dentro dei puntini neri io non so perché cioè fatemi sapere se non so se è il mio se anche il vostro è così però non è proprio carinissima questa cosa vabbè comunque farò una segnalazione allora adesso vado ad applicare il mio soft touch allora questa è la quantità che prendo non so se riuscite a vederla no va bene non metto a fuoco comunque questa qua vado ad applicarlo sulla mia tip faccio tipo un moretto facciamo finta sia insomma il giro cuticole e vado a stenderlo verso la punta in questo modo ok 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 vedete come vedete non non vado a premere troppo sulla superficie poi lascio un pochino che si autolivelli da solo e mettiamo in lampada futura 60 secondi una volta polimerizzato pad con il cleanser e andiamo a levare bene lo strato di disspezione aspettiamo che evapore il tutto ci soffio anche almeno così fa prima ok e questo cioè mi piace veramente tanto 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 anzi meno male l'ho comprato veramente carino e questo è tutto ragazze vi mando un bacione al prossimo video ciao